Il fermo è stato convalidato e è stata applicata una misura cautelare in carcere. E' arrivata la convalida del fermo da parte del GIP di Pesaro per Federico Pecorale, che nell'udienza di stamani si era avvalso della facoltà di non rispondere. Al 29enne accusato di aver sparato domenica pomeriggio a Yelfri, il cuoco 23enne di un ristobare a Pescara, è stata disposta la misura cautelare presso il carcere di Ancona. Pecorale è accusato di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da fuoco. Il legale conferma la scelta di procedere con il rito abbreviato, condizionato però da una perizia psichiatrica. Durante l'interrogatorio di garanzia, diciamo nella parte tecnica nome, cognome, residenza, Federico è andato completamente in blocco, non ricordando assolutamente nulla di dove fosse nato, quale data. E quindi ho potuto vedere che nel momento in cui Federico va sotto pressione, nel momento in cui viene stretto da una morsa psicologica, Federico va in blocco. E questo mi fa pensare che il giorno dell'evento sia successo effettivamente qualcosa di simile. La cottura degli arrosticini resta, anche secondo l'avvocato, l'unico movente che ha portato il suo assistito a compiere l'atto. Raccontare questa storia è paradossale, ma in realtà tutto nasce da una cattiva salatura di questi arrosticini che scatena comunque una discussione. Questo lo dice il teste che era presente, quindi la ragazza che è assistito ha riferito proprio questo. Pur non avendo il porto d'armi, Pecorale ha agito con una pistola illegalmente detenuta. Questo perché, spiega l'avvocato, aveva paura di essere preso in giro per la sua disabilità. Basta vedere il video e vedete come cammina. Lui aveva paura di essere preso in giro e ha preso questa pistola da anni, però non ha mai fatto uso, però l'ha sempre portata con sé. Intanto Yelfri, dopo essere stato sottoposto a due interventi d'urgenza, è stato trasferito dalla rianimazione alla neurochirurgia. Una buona notizia per familiari e amici, visto che attualmente il ragazzo è stabile e cosciente. Il neurochirurgo, il dottore Donato Zotta, invita comunque alla prudenza, riferendo che il quadro neurologico complessivo potrà essere chiarito solo nei prossimi giorni.